Buonasera a tutti, allora innanzitutto volevo ricordarvi la diretta che ci sarà alle ore 18 poi ci tenevo a dirvi una cosa, nell'ultimo post che ho pubblicato pochi minuti fa sto leggendo veramente delle cose oscene, dei commenti bruttissimi dove per carità, ognuno di noi, ogni persona è libera di esprimere ciò che vuole però sempre nel rispetto vanno fatte le cose soprattutto quando non si conosce a 360 gradi la storia e soprattutto parlare senza sapere come si sono svolte le cose quindi se vorrete saperne di più io farò appunto questa diretta per rispondere a tutto ciò che volete ma non voglio, vi stavo dicendo che non voglio tutte queste cattiverie perché io penso che dopo quattro anni di storia dove ognuno di noi due abbiamo fatto dei sbagli e comunque questo percorso ci è servito ad entrambi non vedo quale sia il problema di offendere in questo modo non lo so le cose io penso che nella vita si possono aggiustare che nulla è impossibile, che se vuoi una cosa e se vuoi comunque risolvere delle cose esistono i modi e perché non dare una possibilità ad un'altra persona? dare una possibilità ad un'altra persona vuol dire essere falsi? vuol dire essere cornuti? dare un'altra possibilità ti fa donna o ti fa uomo comunque ti fa essere maturi questo è tutto comunque ci vediamo più tardi perché ci sarà e vi mando un bacio